Carissimi amici di Radio No Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando e da un poco che non ci ascoltate tramite le nostre frequenze web ma non disperate perché stiamo per tornare l'estate sta per arrivare e ritorna anche chiaramente le nostre trasmissioni e ci saranno anche delle belle novità e vi consiglio di restare sempre sul pezzo come lo siamo noi d'altronde e seguirci tramite i nostri canali social di Facebook, Twitter ed Instagram a proposito di novità, ci sono due novità che ci hanno fatto molto piacere sono delle aggiunte per la nostra redazione sono Mauro Cielo che è un amico fotografo e Nicoletta De Martino che è sordito molto bene con una bella intervista siamo contenti chiaramente del loro lavoro siamo contenti in generale del lavoro che stiamo svolgendo e speriamo che anche da parte vostra, cari amici ascoltatori tutto ciò sia ricambiato e appunto non resta che tenervi aggiornati noi siamo comunque sempre operativi perché partecipiamo ad eventi come potete notare appunto ci sono sempre delle belle interviste i nostri contributi tramite foto e video e chi più ne metta un saluto dal sottoscritto Raffaele Russomando un saluto anche da Jimi Hendrix beh, un po' di musica non fa mai male d'altronde siamo una radio da questo punto di vista in questo caso mi state anche vedendo e mi raccomando restate sempre sintonizzati su Radio No Frontiere ciao